Il viaggio continua, qui da Barcellona siamo saliti al castello di Montjuic, è un castello che si erge su tutta Barcellona ed ha una vista mozzafiato. Adesso ci addentreremo a scoprire quello che nasconde questo castello che non è stata soltanto una fortezza difensiva ma oggi attualmente ospita un museo militare. Ma andiamo a vedere più da vicino i particolari di questa grande costruzione, il viaggio continuo. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.